ciao ragazzoli benvenuti in questo nuovo video ci troviamo a istanbul turchia luogo di nascita del kebab dell'amato kebab però mi sono chiesto oltre a questo street food quali altri ci sono qui in città che possiamo assaggiare che dobbiamo provare perciò ho selezionato quelli un po più popolari quelli più consigliati e voglio capire qual è quello più buono perciò iniziamo primo street food per questo video io sono super in hype perché all'aspetto ispirono di brutto a tutti spero non ci deludano perché sarebbe una roba tremenda i panini sudati e sono panini rugosi sudati e cini ci spirono perché siamo belli insugati unti proprio da sbatterci la faccia dentro chi è quello che ha detto giacomo è una sorta di catena ci sono più sedi qui a istanbul what's inside atrizza ok ok a wet burger proprio studato bello ci sono tre tipologie hamburger normale cheeseburger e quello con insalata americana vengono più o meno tutti sull'euro e 72 euro eccolo qua questo qui è l'hamburger classico guarda qui che bello è l'odore di quando nella casa fuori sede uso un botto di spezzone a casa spezzatissimo hamburgerino dentro così ho incastonato la pane proprio poi abbiamo ordinato anche in cheeseburger già che c'eravamo perciò ragazze inauguriamo questo video sui street food a istanbul con lui buona appesuta a titti un altro è assurdo in bocca fa un bel pastone morbido fra il pane tutte le spezzettine con la carne fa un bel lavoretto caldo non è quell'hamburger finto di cartone di solito dei fast food non mi aspettavo che fosse così buono forse l'officina no no vabbè devi affondare la bocca buono non è il classico sapore di un hamburger è un hamburger asiatico cioè senti le spezie senti il curry senti il comino non so poi c'è il cheeseburger l'odore promette bene non ti aspettavi eh? wow è provincia di la spezia talmente speziato che fa provincia inaspettato si vado a prendere tutto per me 7 e 3 quarti vediamo vediamo già questo qui è bello bustato con il formaggio il formaggio gli dà un saponino bello dolce che contrasta quello super potente delle spezie incredibile panini sudati 8 più bello finaville ha bustato? ha bustato verso il prossimo street food adesso bello nascosto in una viuzza infrattato yalla falafel unico appunto da fare i falafel in realtà non so tutti sono palestinesi non lo so anche io questo postice è molto piccolo ristretto specializzati ovviamente sui falafel i falafel perché uno conoscesse è una polvetia fatta di legumi di solito con fave, ceci, fagioli e poi insaporita con le spezie cipolle, curcuma, cumino e coriandolo quindi piatto totalmente vegano più tipico della cucina magari palestinese, egiziana non tanto turca però ormai è un piatto che si trova anche dai soliti quebabari appunto allora tutto bello, falafel fatti sul momento ingredienti freschi, localino molto convigiale però non mi può dare la piadina fredda c'è tutto l'interno caldo e poi la piadina che è gelida assaggiamolo passiamo dai panini sudati a questo sono quei sapori che dici buono che sapori di verdura, roba a salutare, fresca, sì street food però chicchettina ma sinceramente se conoscessi una persona che deve venire a istambul non glielo consiglierei cioè non direi vai lì a mangiarlo prima di tutto non è un cibo tipico secondo non mi dice niente è come mangiarsi un wrap con l'insalata dentro fredda fredda la piadina però c'è conviene con me che è un'insalata dentro un wrap di fatto sì cioè però a livello saporifico è buono cioè sono buone, è una piadina buona diciamo che per chi è abituato alla carne sembra che manchi qualcosa è come se fosse solo condimento niente il contorno sentiamo, voglio sentire solo il falafel il falafel apprezzo la crosticina all'esterno che è bella croccantina però di per sé si dici ok dove vogliamo arrivare falafel wrap pagato 3,94 cocoreggi er senti io non lo so io non dico più i nomi se no mi rostate nei commenti da questo qui che fa questo street food tipico che è a base di pane con dentro una salsettina verdurina insomma carne con dentro il grasso di agnello arrotolata nell'intestione dell'agnello e poi fatta passare tipo allo spiedo te la spezzettano tutta sulla piastra e poi te la mettono dentro il panino e ispira a me ispira di brutto un harim ekmek viene circa 4 euro per accompagnarli mi sono preso anche questa sorta di gassosa turca no non è acqua infatti sembra tipo una Coca Cola stinta è la cosa più lurida che abbia mai visto fino adesso qui in Turchia andiamo all'assaggio si sente molto il sapore delle spezie e ti dico anche un leggioso sentore forse della parte dell'intestino che gli hai messo all'esterno questo qui è un pezzettino dell'intestino si vede però non è male cioè non sente il sapore della carne questa qui è tipo una charricola super dolce forse questo qui è uno dei posti più zozzi dove poterlo provare che dite voi? buonissimo spettacolare il pasto migliore in Turchia finora finalmente l'agnello ha un sapore diverso tutto quello che c'è dentro in Italia non mi piace l'agnello intestino è grasso lievito però qui ha senso sarà per chi ha lurido quindi è buono abbiamo attraversato il ponte di Galata per andare a provare i famosi frappi di pesce di Rimusta bello tutti i salsettini cosa ce ne mette? è bellissimo quattro salse bello guarda bello tutto speziato salsine è unitissimo guarda qua come trasciuda l'ha inondato di sapore questo wrap lo mi fa un botto gola nonostante appunto stai ripiena di roba untissima super saporita si sente il saporino di pesce molto buono non penso che qui si mettono a prendere il pesce surgelato perché dietro sul ponte non so quanti pescatori ci fossero a pescare è abbastante è buonissimo poi il wrap fino bello elastico confortevole guarda tutti i succhi nel fondo della plastichina bello bello questo street food qua si mangia per colazione in Turchia non è uno street food però è interessante secondo me allora ci siamo in questo posticino che è sul lato asiatico e già vi posso dire che dall'aspetto della città mi sento già più in Turchia qui anche se siamo nel lato opposto al fiume al bosforo anche per quanto riguarda i prezzi che sono più bassi rispetto al lato europeo ci siamo presi un po' di robettina la assaggiamo e vediamo un po' cosa si mangia in Turchia per colazione bellissimi pancake turchi ce li stanno facendo sul momento sul mio piastrone stondato questo qui è il famosissimo caffè turco allora questi raviolini turchi sarebbero un impasto fatto di farina acqua sale anche uova se non mi sbaglio però non lo so se effettivamente è così ho letto la ricetta su google con dentro la carne sopra yogurt e poi penso oliettino piccante che mi spaventa e poi qui ci sta preparando il pancake turco ah che bravo ci hanno portato le tre cucchiai senza che noi glielo dicessimo viscidini l'impasto abbastanza spesso il ripieno di carne si sente sembra tipo dei tortellini nostri però più soffici e non sono così piccanti come mi aspettavo stiamo mangiando per colazione non so se è usanza buono allora il sapore della carne non è forte comunque ricordano se non i ravioli cinesi al vapore è vero non so perché non ci ho pensato a confrontare i ravioli cinesi però si so quelli praticamente quello è palesemente una crepe con la nutella e invece qui mi sono preso con l'uovo e formaggio passaggiamo anche il caffè turco comunque io tengo il mignolino alzato quando bevo non perché sono stupido perché voglio fare il lord ma perché è una citazione da Spongebob buono buono cavo porca vacca non è il solito caffè nostro questo sembra come se fosse un po' cioccolato fondente no se non si ricorda l'orzo sa di orzo non sa di caffè anche io l'orzo non l'ho mai assaggiato assaggiamo questo qua invece sono stra curioso vediamo un po' molto forte il sapore del formaggio la cosa che però mi fa impazzire è l'impasto il gozleme all'odore ricorda molto una crepe proprio in bocca sembra più una piadina quasi molto fina ci si può trovare con diversi ripieni formaggio spinaci in questo caso ci siamo presi appunto il formaggio con le uova o anche i dolci e secondo me ci sta in tutte le salse ma mi ha bocca ma ti sei bevuto il sedimento del caffè nel caffè turco c'è il fondo dove c'è sedimento tutto il caffè ora vi faccio vedere questo qui è tutta la polvere di caffè in fondo e questa è un tada di bere se no finisce come era cazzo io per il caffè per il gozmele per il simit e i raviolini ho speso 9 euro e 22 pochissimo cioè per una bella colazione bella sostanziosa ci sta di brutto questo video dagli street food si sta un po' stabilizzando però alla fine è un più food tour ok basta street food però vabbè kazandibi dolce super tipico turco con un esterno bello caramellizzato e all'interno credo ci sia un padding di riso non lo so lo assaggiamo però guarda come balla l'ho visto così di scorcio mentre si sta camminando sempre qui nella parte asiatica in questa pasticceria che si chiama profiterol e andiamo all'assaggio oh bello tenace tenace no l'ho rotto strano c'è il formaggio non so non so non so non si può scoprire è molto appiccicoso la parte esterna sembra una sorta di creme brulee quindi la parte esterna sbrucciacchiatina gusto dolce però a noi è eccessivo fresco e la conseguenza è una sorta di crema molto molto densa appiccicosa potete provarlo? si è strano eh vai molto strano zero non ho odori sa di caramello si sa di mu caramello e mu buono mi piace non si sa cosa c'è dentro però è buono sa di latte latte e mu vacca c'è guarda qui guarda questi fili bellissimo una domanda cosa è dentro? come è fatto? pollo veramente? pollo interessante e quindi è fatto col pollo ecco cos'erano quei filetti ora che mi ha detto il pollo ci sento solo pollo no allora è dolce non so distinguere nessun sapore nello specifico è tipo un budino molto effettivamente se lo mastichi ti dà quella sensazione di appiccicoso che ce l'hanno le fibre di pollo quando le schiacci avete presente? è vero è vero questa cosa è scioccante ragazzi fammi vedere gli ingredienti che ci sono latte zucchero riso amido e pollo sicuramente il pollo non c'è una grandissima quantità però c'è il pollo chissà come gli è venuta di aggiungere il pollo per strada abbiamo trovato il caffettiere il caffè omante quello che ti fa il caffè sulla sabbia calda e poi te lo legge una caffettina calda sì sì tutti belli è un buon è un buon è un buon mazzo ho dei bicchierini di carta però ci ha dato la cioccolata per tutti non ho mai bevuto un caffè cucinato con la sabbia caffè ma come devi fare poi più spetta perché per leggerlo eh non so la chiamo e dico mamma ho finito vabbè in realtà il caffè è turco l'abbiamo assaggiato stamattina è a buono vediamo se è come quello lì di oggi è lava questo qui probabilmente sarà il momento nel quale mi rovinerò la vacanza stop stop è lava sta a fare e quella sabbia lì è la sabbia della spiaggia al luna di pomeriggio ad agosto no è la più buona quella di stamattina cos'è più caffè sapone di caffè sono arrivato alla fine è la fine per noi è la fine per noi ero qui che me la stavo vibando e è arrivato un po' di sabbietta in bocca è finito il caffè non so se è possibile di rire il caffè è possibile leggere il caffè come una tradizione turca? si può leggere il fondo del caffè? perché so che è una tradizione turca è stato un parto fargli capire che volevo farmi leggere il caffè effettivamente come la tradizione il caffè si legge solamente quando c'è la tazzina bianca quella in porcellana non so perché mi abbiamo dato questa di carta sinceramente vabbè è stato un po' un fail questo poi costerebbe 400 lire ovvero 12 euro farsi leggere il caffè cadena miseria preferisco vivere nel dubbio siamo abbalati adesso e c'è tipo lo spawner dei cimits penso qui dentro qua li cuciano e li sforno belli caldi caldi qua qui belli li voglio backdoor ah ma come c'è esce fuori bellissimo cioè li ho posso tirarli li ho posso prendere io voglio un cimit caldo adesso quanto per un? 10 10 è caldo? è caldo questo è caldo bello rustico questo questo è il sacco da Turchia adesso questo è Istanbul eh questo è Istanbul ultimo street food per questo video perché non ne posso più sta diventando lunghissimo ci troviamo qua davanti al ponte di Galata per andare a provare finalmente quello street food che ci sta ronzando in testa all'inizio del viaggio le pannocchiette 30 bui ria bene sulla tabella di nave pannocchietta bella brustolita sulla brace ma questa qui l'ho presa solito unicamente perché Don se ne hai mai mangiate le pannocchie così come cartellano no no non ho mai mangiato le pannocchie in tutta la mia vita è diverso Strabuona Arriva dopo Stacca e chicchiette e non il nucleo Cosa assaggiare? E' il mais Cosa assaggiare? Però il mais arriva dopo E' una merudicchia Bello dolcino Ti devi piena la bocca di mais Se no non godi C'ho tutta la pannocchia e mezze denti Non prendetemi in giro Ragazzi Oli Io che dire Per questo video su street food A Istanbul E' tutto Spero che vi sia piaciuto Mi sono divertito veramente tanto a registrarlo I bros hanno mangiato Stanno a posto La pancia è piena Stanno tutti vai bati Cillati Siamo tutti nel drip E io con la moschea nuova alle spalle Vi dico che per questo video è tutto E noi come alzate Ci vediamo prossimamente In un nuovo bellissimo video Arrivederci Grazie a tutti